Buonasera, oggi non sono da sola, mi aspettiamo a questo punto, adesso non arriverà nessuno Sirius ma non ti preoccupare arriveranno in tanti a dirti che sei bellissimo, buonasera qualcuno inizia ad arrivare quindi siamo in diretta veramente, non vedo nessun commento eccovi qua, ok adesso è arrivata la notifica che è cominciato a funzionare tutto, buonasera l'avevo detto che l'avrei comprato, l'aiuto da casa non mi ha aiutato in nessun modo ad esistere dall'acquisto di questa cosina qua è uguale a Sirius, non potevo non prenderlo, è arrivato tutto piatto, una silhouette così non l'hai mai avuta Buonasera, lui starà con noi oggi, lo metto qua vicino a Lillo il puntaspillo, vediamo se così si vede un pezzetto della sua leggioadra figura Buonasera, sì perché ovviamente io non sono una padrona di casa particolarmente sana di mente ma questo non era assolutamente, insomma era assolutamente noto a tutti allora vi faccio vedere un po' di cose, oggi poi facciamo queste card, qui c'è il nostro campionario io vi ho tutte queste tagchine che ho punciato ieri, che non avevo raccolto, queste sono le grafiche del puncettino della vergogna domani facciamo il Midori e le uso sul Midori, quindi oggi le raccolgo un pochino qua, intanto che arrivate ce n'è ancora qualcuno del puncettino della vergogna, quindi se volete potete ancora adottarne qualcuno è meraviglioso, si è soltissimamente, sono assolutamente d'accordo potrei giocare così tutto il pomeriggio, ma va bene, sono 44 anni, d'altro canto è mobidissimo Rossella sì, si percepisce, è veramente pelucioso Buonasera, al momento spostiamo questo che c'è un pezzo di accroppio allora, intanto che arrivate, vi racconto, oggi sono rientrati un po' di reintegri di Vicky Buten non è ancora arrivato il pad di carte, ma dovrebbe arrivare in realtà ai fornitori in questi giorni quindi dovremmo essere abbastanza vicini ad averlo sono rientrati i die cut, sono rientrati i chibur stickers l'altro giorno è arrivato questo che mi piace tantissimo, ho dimenticato di dirvi che l'ho aggiunto ai prodotti che ho messo via Luigi, come stai? Con gli avanzi del progetto del ring album che abbiamo fatto un paio di domeniche fa e che pensavo di avere qui, ma madre deve aver già spostato non lo vedo più vabbè, ve lo ricordate quindi ci sono un po' di carte, un po' di abbellimenti cercheremo di tirare fuori delle carte con degli avanzi oltre questo, vedete io qua ero stata dirigente, ho tutto nella mia bustina dell'anticamera del paradiso dei ritagli la metto un secondo qui perché volevo farvi vedere questa è la carta di una delle carte la fustella delle piume in realtà ho disfatto un ordine che mi ero accorta essere rimasto qua giacente e insoluto da un anno, quasi un anno e mezzo quindi avendolo disfatto è tornato disponibile un unico pezzo che avevamo a disposizione quindi mi spiace ma credo che non la facciano più diciamo questa è la carta principale con i ritagli qui di fianco del kit di settembre molti di voi mi hanno chiesto come compongo i kit di paillettes, in che modo allora adesso che ho i miei swatches, con tutte le micro scatoline vado semplicemente a scegliere dei colori che ben si sposino con la palette delle carte in questo caso io ho scelto questi quattro che vedete singolarmente sono perfetti non è così semplice miscelarli nelle quantità in cui questo non risulti essere semplicemente una cozzaglia di colori mi sto esercitando adesso vi faccio vedere il risultato della mescola che ho fatto che ha richiesto più tentativi perché sennò non emergeva nessun colore e non mi piaceva tantissimo questo qua è il risultato adesso se avessi qui nei dintorni la bacinella in cui le ho miscelate ve la farei vedere vado a vedere un secondo se l'abbiamo spostata qua è un po' più di impatto dello scatolino piccino allora aspettate, è proprio una bacinella you know bacinella, bacinella, proprio quella dove si mettono i panni bagnati tolti dalla latriccia, dalla stoviglia, spero di no allora aspettate che chiudo questo piccolo per evitare di fare disastri e contro disastri e sposto il caffè voilà questo è il mix di settembre che a me piace veramente molto alla fine pensavo che avrei fatto prevalere il marrone ma in realtà questo verde era così meraviglioso che come si fa e alla fine questo è diventato il mix i jewels che ci sono dentro sono un verde scuro adesso avrò paillettes in giro everywhere vediamo paillettes appese dappertutto e con le carte stanno bene secondo me quindi una volta scelti i colori bisogna scegliere anche le proporzioni perché non è sempre uno 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 e anche il giallo sarebbe stato molto bello però secondo me questo verde verde era veramente wonderful guardate adesso tiro su la carta direi mi sembra perfetto scaglie di drago adesso chiamiamo john snow vedete questa è un'altra carta mi sembrava perfetto per dare quel tocco di colore perché in realtà se avessimo scelto solo il giallo un po' si perdeva perché c'è tanto giallo all'interno delle carte perché sono margherite quindi invece così Elisa quando vuoi venire a mescolare dimmelo che ti ti riservo un posto cosa fai nella vita che lavoro fai mescolo paillettes è un duro lavoro qualcuno deve pruffarlo adesso piano piano le impacchettiamo le inscatoliniamo nelle scatolinine buonasera paillettes sì siamo passati dal micio Tiziana alle paillettes adesso queste paillettes me le porterò dietro tutta la sera ma allora quelle bianche sono un po' infide che si attaccano dappertutto però insomma ci piacciono molto allora posiamole ok allora io e Sirius intanto vi ragguagliamo il draghetto sarà uno degli animanetti sì 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 è uno dei progetti per le fustelle allora devi abituare ad usarle ho in mente una serie di cose da fare per gli avanzi delle paillettes che secondo me sarà molto carino adesso adesso vediamo a me piace sempre mettere quel tocco di sbirlucci che dà che dà la paillette poi ovviamente mi rendo conto che le scatoline porta paillettes appena facciamo i kit di paillettes i kit nuovi ce ne saranno una quarantina disponibili e poi il micio hai visto il punch grande allora l'idea era di metterli insieme al timbro in realtà lo state comprando tutti adesso quindi mi inventerò qualcos'altro per legarli insieme timbro e fustella di quelli di questi qua di questi qua adesso vediamo quando arriva il timbro che credo sia tra fine settimana e inizio della prossima in realtà dovrebbero spedire il 3 che forse è venerdì quindi in realtà arriveranno lunedì quindi prendetelo cercherò di inventarli qualcos'altro adesso vediamo allora dunque ho letto il punch grande ho letto prima una notifica ha una misura di circa 3,7 allora questo qui è il timbro vabbè questa è la punciata quindi adesso lo misuriamo quello piccolo è circa 2,5 questo è circa 3,7 potete già allora se volete aspettate tanto insomma ne abbiamo diversi così vedete se vi piacciono i timbri oggettivamente e poi mi inventerò qualcosa per legarli insieme perché in realtà in tanti l'avete già comprato allora e non lo dico con dispiacere però allora ho preso l'avanzo di quello che era il ring album che abbiamo fatto un paio di domeniche fa ho aggiunto questo che mi sono dimenticata di comunicare su Luigi lo ricompro se finisce tranquilla tranquilla che è il prodotto che è arrivato qualche giorno fa sono i Puffy Stickers della collezione Voron Wishes e questi invece sono semplicemente delle basi le nostre basi bianche quelle 4,25 per 11 pollici con questo secondo me riusciamo tranquillamente a fare tutta una serie di con questo riusciamo sicuramente a fare tutta una serie di card allora adesso bevo il mio caffè prendo questa paillette che sennò rimane appiccicata al nostro Sirius in peluche invece adesso sta appiccicata al mio dito ok allora le basi delle card questi qui sono in realtà tagli venuti non particolarmente bene quindi le devo misurare e infatti secondo me non sono perfettamente a misura le ritagliamo sono pensate per essere piegate semplicemente a metà e consentirci di avere la base della card già pronta adesso bevo il caffè tra l'altro comunicazione di servizio il preordine di moda scrap che abbiamo pubblicato ieri sarà per noi negozi per mio negozio sarà attivo come preordine fino a quando non arrivano il oh mamma mia questo spam così violento così ma magari no se qualcuno mi fa il favore di segnalare va vabbè allora vi dicevo come negozio lo terremo aperto fin tanto che non arriveranno i prodotti per noi negozi nei confronti di moda scrap il preordine chiude il 6 di settembre quindi all'inizio della prossima settimana ciò vuol dire che verranno evasi prima tutti gli ordini arrivati fino ad allora e poi tutto il resto laddove laddove è disponibile quindi se volete assicurarvi l'arrivo dei prodotti con la prima ondata per evitare che finiscano i prodotti fate il preordine entro il 5 così che insomma grazie mille Ilaria è così c'è gente che ma usate due paillettes fate due card che invece che spammare così che vi fate odiare da tutti vabbè allora beviamo così poi inizio allora io ne ho preso una mazzetta così ma facciamo magari una decina vediamo se riusciamo a farne una decina questo qui è uno dei lotti che non va bene perché è rimasta questa c'è stato ah sì eh ma perché prendono i video con alte visualizzazioni e spammano perché si divertono così allora questo è un po' meno di 11 pollici allora io semplicemente lo piego a metà per essere sicura io userò questo va bene lo stesso le margherite sono del set del kit dei My Toil Taste di settembre allora se volessimo essere un pochino più precisi solo che questo non ha la misura esatta e quindi fatemi rimisurare ma è un po' meno di 11 pollici questo è non lo posso mai più se 27 e mezzo a metà sono 13,75 devo farlo così contare le macchie di leopardi mi piace tantissimo allora io le piego semplicemente a metà è il modo più veloce per ottenere un buon risultato questa carta è molto spessa ed è il motivo per cui la utilizziamo come base quindi ci consente voilà un buon ok una buona un buon sostegno facciamo magari una alla volta però questo di appoggiare il bordo contro il appoggiare il bordo della card contro il bordo della taglierina è un trucchetto che mi ha insegnato Germana tanti anni fa ed è veramente comodo perché ci permette di piegare a metà qualsiasi tipo di ritaglio che abbiamo senza sbagliare le misure che come ben sapete per me è fondamentale uno, due, tre ne ho fatti cinque ne prendiamo altri cinque tre, quattro e cinque così poi prenderemo gli avanzi di carta che abbiamo taglieremo dei pannellini che useremo come base non escludo di usare anche degli ingombri bianchi di quelli delle foto che potete sostituire con i ritagli ovviamente di carta per avere uno spazio bianco che sia abbellibile perché comunque di abbellimenti ne avevo presi tanti e nonostante nell'albumino io sia andata giù pesante con la mano ne ho ancora parecchi l'unica cosa a cui dovrò prestare attenzione visto che la misura non è perfettissima è di tagliare un pannello la cui misura stia bene all'interno di questa facciata grazie grazie che avete segnalato tutto meno male allora perché io mentre sono live non posso non mi fa fare nessun tipo di azione sui commenti quindi allora mettiamo via questa Sirius lo appoggiamo sulla big shot ve lo farei vedere è meraviglioso allora qui ci sono pezzetti delle punciate di ieri perché a riprova del fatto che nessuno muovisce il tavolo allora misuriamo il nostro pannellino dovrebbe essere più o meno 5 e mezzo infatti manca pochissimo per 5 e mezzo è praticamente giusta la misura in realtà però per 4 e 25 vero perfetto quindi se io mi taglio un ingombro che sia 4 pollici per 5 pollici e un quarto ho perfettamente l'ingombro che posso la matatura che posso mettere qui sopra con un leggerissimo bordo bianco ma ti prego guarda non mi fa girare il telefono per farlo aspettate no vuoi mai che mi vediate non mi sembra il caso è lì che mi guarda ciao è stupendo basta mi serviva è un'esagerazione però mi ha fatto tanto contenta allora 10 card mettiamo un secondo via questi tiriamo fuori quello che c'è qua nella bustina del paradiso dell'italia qui ci sono un sacco di abbellimenti ancora tiriamo fuori prima di tutto le carte vedete vedete che ne ho tante strisce perché avevamo fatto una misura non troppo grande questa addirittura non è intera non ne ho proprio salvata nessuna intera ma qui ho diverse cosine che possiamo usare tesserine tiriamo fuori tutta la carta oddio di questi qui non mi è avanzato praticamente niente ma avremo delle altre cosine qua qua ho un sacco di ritagli e così dovrei farcela tranquillamente se no apriamo un altro pacchetto di appiccichini il problema c'è allora questi sono per esempio praticamente dei pannelli già belli che fatti vediamo quante ne ho per esempio queste sono un po' troppo grandi salvo non tagliarle possiamo anche farlo perché sono già preparate come se fossero un po' dei piccoli layout ci sono tutte queste tesserine qui adesso non userò tutte queste se no ci divertiamo poco però raccogliamo questo l'ho conservato per onore della Germana perché non ci serve a niente non è detto che io non apra nessuna confezione non è detto non diamo adito a false speranze per cortesia eh allora questo è tutto puncettato l'ho tenuto ma allora questo per esempio non posso usarlo sulla card ma questo sfondo nero è bellissimo guardate se io me lo taglio a 4 pollici e un quarto non ci sta 4 pollici e un quarto perché ovviamente ma se decido che mi va bene una mattatura un po' più grande e lo taglio quindi a 5 un po' meno di 5 facciamo 5 e un quarto che poi sono sempre in tempo a tagliarlo anche se non è precisa e quindi è un po' più stretta è perfetta anzi era 4 no scusatemi questo è 4 4 un quarto quindi era giusta giusta 4 la misura che ci serviva è perfetta e un pannellino è fatto e poi decoriamo allora intanto inizio ad incollare i miei pannelli ok questo lo teniamo qua poi scegliamo un altro pannellino e vogliamo non usare un pezzo di questa questa l'ho maltrattata alquanto questa andrebbe utilizzata in un verso specifico che non so se riesco a mantenere facciamo una prova perché per come l'ho tagliata la vedo veramente difficile però facciamo un tentativo qui abbiamo un 4 ma sì però dovrebbe essere fatta così no non ce la facciamo 5 pollici bah e allora è un po' più corta teniamola buona lo stesso tagliamo qui a 4 pollici guardate facciamo così questo è il lato che vorrei tenere ma è un po' più corto di quello che dovrebbe essere allora prendo un altro pezzo da qui dietro che tanto è tutto coordinato lo taglio a 4 pollici che è la larghezza della mia card e lo uso come base adesso lo restringo un pochino lo faccio un pochino più stretto non sperateci troppo perché sono qui di fianco e gli appiccichini che mi guardano allora purtroppo la fantasia è tagliata tutta storta quindi mi viene il mal di mare ma non ci faremo caso sembra veramente ma forse questo pezzo qui è veramente tanto storto eh sì cioè madosca allora guardate però Simone sarebbe orgoglioso di me mi stai dicendo così e questo lo mettiamo qui sopra mi è venuto un po' più stretto ho sbagliato a tagliarlo quindi ne taglio un altro pezzettino tanto ho un pochino di gioco qui potrei farlo addirittura 4 pollici un quarto che è la larghezza della mia base vediamo così fa come se fosse una specie di taschina o così o in alto in alto sarebbe carino se lo mettessimo punciato con un border questo vengono tutti male con un border punch si potrebbe fare uno scallop per esempio adesso qui qui dietro forse non ho nulla o questo ma non so se si presta bene facciamo una prova si è commossa solo per lei allora proviamo a punciare questo questo è il doily punch della vaessen come vedete mi sto girando e sto vedendo che cosa ho in giro sul tavolo è assolutamente tutto super 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 improvvisato allora ma non sta neanche male io lo lascerei stanno sfaltando la strada e non ti consegnano il pacco veramente quante parolacce abbiamo detto my god allora colla e la metto qui alla base un pochino discostata di modo che rimanga la mattatura qui posso decidere anche di mettere un pezzettino di biadesivo ho qui quello della questo ormai si sarà anche un po' seccato perché l'ho lasciato barbaramente aperto o quello dell'Effy Doodle gli aggiungerò un pochino di colla non hai ricevuto la notifica del live su Telegram di solito arrivano sempre sono un po' molesta perché magari scrivo tanto quindi magari dopo un po' avrete voglia di silenziarmi però vi arrivano troppe parolacce ne hai cognate di nuove probabilmente abbiamo tutti i nostri momenti da pseudo scaricatore di porto io mi difendo molto bene ah ecco tu sei quello un pochino più stretto quindi poi gli metteremo un appiccichino per coprire questa cosa oppure lo ritagliamo ancora allora si può andare bene anche così è che questo è della dimensione sbagliata perché a furia di taglia di qui taglia di là mi sono fumata il pezzo giusto che forse era lui che forse era lui sì però è tagliato in mezzo non lasciamo questo poi ci mettiamo un ci mettiamo un abbellimento lì e siamo a posto e questa è un'altra card e la mettiamo qui poi prendiamo questa meravigliosa carta qui ci tagliamo una striscia da 4 pollici sì sì anche a me ogni tanto c'è la scaricatrice di porto poco devo dire mi sento più drusilla a volte drusilla foer però di solito 5 pollici e un quarto ne tagliamo due uno e due così ho due pannellini e guardate possiamo fare questo in uno usiamo questo qui che incolliamo sempre senza pensarci troppo perché sono tutte carte coordinate quindi comunque le mettiate staranno bene questa è una tag dove sei tesserina che ti ho vista prima che ho pensato questa è una tagghina ma ci sono tutte le tesserine 3x4 che altro non aspettano che essere collocate qui sopra dove sono le altre eccole qua per esempio oppure qui potremmo guardate questa tagliata qui secondo me è meravigliosa allora facciamo così sfilo questa parte qui sfilo la taglio e poi lo porto a 4 pollici lo porto a un po' meno facciamo un 3 3 pollici che è la larghezza delle altre tesserine ma io mi tengo tutto il tab perché mi piace tanto e quindi la mia card diventerà questo questo l'ho già attaccato che cosa volevo fare ancora in più esattamente così e poi posso giocare con gli abbellimenti questo lo posso spessorare posso anche pensare su avanzato un pezzettino di questa guardate un sacco di striscioline di questa rossa guardate se ne metto un pezzetto qua come la chiude bene ovviamente questo è tutto sderenato ma adesso ne cerchiamo un pezzettino della lunghezza giusta che non abbiamo e quindi puliamo questo guardate lo mettiamo nella taglierina molto selvaggiamente e lo tagliamo qui non siamo riusciti a tagliarlo e quindi ci ripassiamo e l'abbiamo assottigliato troppo sono triste no ne useremo un altro questo non si può più usare buonasera sto pasticciando in realtà potrebbe anche essere carino così si può giocare con i pezzi che avanzano prima di farli andare nel paradiso dei ritagli perché comunque ad un certo punto nel paradiso dei ritagli ci devono andare guardate anche così ah così è perfetto mi piace molto e poi ci mettiamo due appiccichini e siamo belli che a posto possiamo giocare qua con un pochino di spessore chissà avevo messo il nastro quello mamma il rotolo verde di nastro spessorato ce l'avevo agganciato qua lo vedi in giro quello non questo qua l'altro quello grande che adesso è piccolo è una descrizione così è impossibile non trovarlo vabbè mettiamo due pezzi di questi è Sirius che mi sta dicendo di non buttare cose usiamo questo e non mi sembra di averlo messo lì perché di solito me lo sto tenendo qua uh come l'ho strappato con grazia questo vabbè mi sgridano e quindi no non si può perdere io metto a posto e quando metto a posto perdo più cose di quando vabbè così e tu sei fatta e ti metto lì poi ho il retro che è questo qui che invece di questo questo bellissimo che non potremmo coprire in nessun modo io per ora le sto facendo tutte verticali magari poi ne facciamo qualcuna orizzontale ok lì potremmo per esempio anche solo mettere una anche solo con questa sarebbe già appena finito ed appena sarebbe perfetto se no questa fa ancora poco contrasto quindi vi direi di no io quasi quasi lì metterei ah qui ci sono tutte queste tagchine meravigliose mettere un ingombro per per renderlo ah eccolo perché si è ridotto talmente tanto che è ora di comprarne un altro è diventato così magrino mettiamo un ingombro scusatemi un ingombro e poi qui appiccichiamo appiccichini mi sta vivendo una cucinetta amore poi prendiamo i nostri ingombri da concludere mi sa che ne vengono anche più di dieci in realtà queste poi finiranno nei pacchi allora che altro abbiamo? abbiamo questa striscia bellissima qui oh che bella da tutti i due i lati facciamo la stessa cosa quindi ne facciamo altre due anche di qua la striscia dovrebbe eh la portiamo a quattro non pensavo fosse già a quattro ma non lo era ok e tagliamo a cinque e un quarto e cinque e un quarto eh cinque e un quarto sì perché è cinque e mezzo ok allora la carta è la collezione di Vicky Buten Warm Wishes allora una di queste potremmo anche farla in in orizzontale secondo me ci sta proprio bene i plate sapete che con me vincono facci mi piacciono sempre tantissimo ok e questa invece la mettiamo così allora in realtà io stavo guardando prima che avevo questo quadratino della dimensione perfetta c'è da rifilare però potrebbe essere un pezzettino che ne esce di qua guardate così e appiccichiamo questo è un taglietto quindi poi dovrò mettergli qualcosa per camuffarlo ma noi siamo bravissimi a tacconare sì sono le mie basi Alessandra quelle per le carte potete usare ovviamente qualsiasi base io sto usando sto usando le mie uno scarto delle mie voilà poi scusate sto cercando di mettere a posto il biodesivo ma non ne volevo sapere allora poi abbiamo questa qui meravigliosa con queste scritte buttiamo a terra il punch allora anche questa la rifiliamo a 4 pollici e ne usiamo due due basi intendo due pannelli queste ovviamente vanno usate in orizzontale questo qui ce lo teniamo lì perché guardate questo va qui è perfetto anzi no beh oddio potremmo fare così questa la teniamo in verticale mettiamo questo qui poi mettiamo facciamo un piccolo layer un pezzettino rosso no avevo delle striscette qua aspettate dove siete finite ah le ho lasciate qui dentro perché avevo conservato anche queste se vi ricordate c'è addirittura un pezzo di queste qualcosa bo ero questa cosa mi hai preso un giorno lì che ho conservato tutto tutto tuttissimo va bene December the weather outside vedete favorite things queste targhettine qua in pratica fanno tutto da sole mettiamo un ingombro qui che ci servirà poi per poter decorare un po' meglio così farà da base per gli appiccichini favorite things lo mettiamo qua magari gli mettiamo un pochino di biadesivo spessorato tu sei troppo largo un po' prendiamo l'altro dovrei avere anche guardate ho anche dei sticky strips qua che vanno sempre bene ok e lì potremmo potremmo anche pensare semplicemente di adagiare una di queste tag guardate anche questa che meraviglia adesso queste ce le tagliamo e qui poi decoriamo e lo lasciamo così e abbiamo queste due basi per le verticali orizzontali scusatemi vedete che oltre che la destra e la sinistra faccio fatica anche con gli orientamenti magari la giriamo no non sono posseduta dalla Germania non avrei mai usato tutti questi abbellimenti buonasera ok allora qui che cosa possiamo mettere allora tolto che un pezzettino di rosso sta bene dappertutto mi rifilo questo a 4 pollici 4 pollici 4 pollici che è l'altezza della mia mattatura e le taglio una strisciolina e me la metto qui se prendo una di queste questa qui mi piace tantissimo non so se si era intuito tagliamo questa poi le taglio tutte così le abbiamo pronte oh brava state spedendo un sacco di card sono felicissima così ogni pacco riesce ad avere la sua perché le mie sono sempre troppo poche ma prometto che cercherò di essere più produttiva se questa noi la attacchiamo qui e poi ci mettiamo a decorare December Countdown per esempio Countdown potremmo farlo passare qui sopra praticamente già fatta mettiamo un po' di colla solo al centro perché magari poi eh sì possiede un pelosetto adottato dalla strada che non ha esattamente presente come calibrare la sua forza e quindi il risultato si traduce in una serie di segni questo lo attaccherei semplicemente qua così guardate ha la stessa larghezza della nostra card e poi mettiamo qualche abbellimento così sono tutte belle sì adesso cercherò di usarle tutte ma credo che mi serviranno delle altre basi facciamolo da questo lato la chiusura da questo lato qui e vediamo se possiamo usare un'altra di quelle tagline meravigliose e la facciamo in pratica quasi speculare potremmo proprio mettere questa qui nera così 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 la nostra pinza per fare il forellino e potremmo metterla qua così anche così vediamo se abbiamo una striscetta che con qualche scritta perfetta assolutamente perfetta in pratica la card è già montata di suo ha già anche il suo sentiment mettiamo due sbirilocchi e via ti sto dando soddisfazione Germana vero? poi abbiamo ancora queste due carte qua questo pezzo qui che però ha un bellissimo pattern qui dietro e questo quindi in realtà siamo ancora in condizione di fare un po' di un po' di basi qui ne abbiamo solo due ma ne prendiamo altre allora fatemi solo togliere questi allora ok allora iniziamo da qua vediamo qui che cosa possiamo ricavare perché questo va tenuto beh possiamo farla in orizzontale e ricavarne due sto andando veloce sapete che io lavoro senza pensare citro sempre allora rifiliamo un pochino qui e qui ne tagliamo una 4 pollici potremmo fare così allora tu quanto sei largo sì allora tagliamo un 4 pollici di qua e ci tagliamo il nostro 5 e un quarto di qua quindi questa diventa la mia base per la card orizzontale questo potrei girarglielo sopra oppure mettere qualcosa di un pochino più a contrasto l'altra che usiamo è questa questa la facciamo verticale tanto la incolliamo e quindi queste due abbiamo fatto questa la mettiamo così mi sono fatta le bustine dell'anticamera dei ritagli apposta per non perdere i pezzi e poter fare qualche altro progetto in più con quello che avanza avanza sempre tantissimo materiale quando faccio i live quindi e questo lo teniamo così ed è perfetto vediamo potrebbe essere così qui questa qui è orizzontale questa qui è verticale questa vediamo poi come chiuderla se proprio volessimo chiuderla questa sta benissimo così secondo me così vediamo come riempirla dopo questa perché sono così belli questi calzini poi qui ah qui guardate questa è perfetta l'abbiamo trovato la incolliamo ma riserve è un mix guarda ne ho preparate tipo tre madre mi ha detto te le metto via chissà dove sono salteranno fuori prima o poi allora prendiamo un altro paio di basi perché qui secondo me riesco a farne almeno altre quattro cinque forse prendiamo le cinque e cinque le pieghiamo ho fatto ho fatto l'ho chiusa al contrario è giusta forse l'altra no sono giuste tutte e due che sarebbe stato assolutamente tanto da me anche chiuderla al contrario certo ok l'hai fatto per vedere se l'ho attenta Tania lo apprezzo lo apprezzo ok così e l'ultima dovremmo riuscire a farle tutte e cinque queste qua secondo me eh sì e per molto me i fiocchetti di neve sì certo se li vuoi puoi chiedere beh beh puoi usare il provolo per me ma penso assolutamente di prenderli adesso appena ci avviciniamo un pochino di più nella stagione anche se in realtà hai ragione c'è già Natale dappertutto quindi io ho messo la taglierina e come pensavo di tagliare la carta col pensiero ok allora di qua che è il foglio da cui ho ritagliato la stella di Natale posso solo tagliare un pezzo sfruttando la carta al massimo così per 4 e viene una base così ed è bellissima è stupenda appiccica appiccica Ilaria niente mi dà più un relax ok così poi mi avanza questo pezzetto qua che magari posso attaccare coordinandolo con una delle altre carte allora vediamo un secondo qui abbiamo un pezzetto di roccia abbiamo veramente dei micro ritagli abbiamo anche questo che è bellissimo abbiamo questo che è troppo non mi piace possiamo mettergli una tagghina guardate guardate possiamo fare una cosa un po' decentrata tagliamo queste due che intanto così ce li abbiamo pronte togliamo togliamo questi e poi così e così allora se io volessi decentrarla un pochino questa potrei scegliere una carta magari da mettere sotto così di cui ne sbuca solo un pezzetto questa non mi piace tantissimo potrebbe essere lei potrebbe essere lei sì sì puoi aspettare assolutamente dicevo prima che loro chiuderanno i preordini a noi negozi il 6 quindi ovviamente tutto ciò che noi ordineremo dopo il 6 arriverà con le successive non con la prima mandata di ordini ma con la successiva quindi se volete assicurarvi di essere tra i primi vi consiglio di fare l'ordine adesso ma insomma spero che non vada tutto soldato immediatamente speriamo insomma e poi qui appiccichiamo questa la teniamo qui prendiamo questa ce l'abbiamo sempre da mettere qua prendiamo un'altra base che in realtà potremmo questo è un avanzo ma ci sta anche così bene che quasi quasi io faccio così o così in verticale anche sì quello spulcio quale cosa intendi per spulcio mi sa che non lo so che cosa intendi così e così e questa l'attacchiamo qua sarebbe carino far sbucare anche qualcosa di rosso magari da qui no vediamo poi con le decorazioni come siamo messe spulcio questo qui è una si chiama hand punch lever punch della vaessen ed è un foratore manuale per fare i fori ed è la misura da 6 mm poi questa è meravigliosa allora questa la tagliamo a 4x5 qua ne stanno venendo tantissime ho assolutamente sottostimato la potenzialità dei ritagli ok così vediamo se qualcuna delle tagchine che ho può andar bene questa per esempio è proprio un po' la morte sua ma vediamo prima se ci viene da decorarla diversamente abbiamo ancora questi due fogli qua che sono molto molto strong si si c'è nello shop se cerchi vaessen hand punch dovrebbe assolutamente saltare fuori allora da qui addirittura ne potremmo fare tre ma magari iniziamo a farne due allora 4 pollici 5 un quarto così ah che vabbè non ha bisogno di nient'altro questa qui è bellissima ok e lo mettiamo qua questa va bene sia in orizzontale che in verticale insomma guardate che bello ci sta benissimo faccio così ci sta benissimo a me piace poi poi ritagliamo da retro almeno un altro ingombro che sia un 5 un quarto per 4 pollici qui volendo me ne verrebbe ancora un altro forse l'ingombro forse addirittura due quello il regalo con la fessura per tagliare si chiama oh mamma aspetta palo un momento di amnesia cut aligne cut aligne cut aligne della misti questa cosa che con l'età non mi vengono più in mente le cose deve finire oh guardate che bella così questa vediamo poi dove metterla abbiamo anche queste bellissime queste bellissime tesseline ancora da piazzare però non ho quasi più niente allora questa qui è un'altra carta molto impegnativa va tagliata in un verso preciso e ho finito di nuovo gli ingombri non avrò abbastanza bellimenti per tutto questo allora tagliamo un altro ingombro da qui c'è un altro ingombro un altro pannellino cinque un quarto per quattro pollici in realtà mi avrei ancora almeno quattro cinque quattro cinque potenziali pannelli ma ho già tutte queste card adesso ne prendo ancora una di base facciamo questa si si lo so è che l'intento era di usare gli avanzi e queste pagliette si spostano così da sole questa la mettiamo in orizzontale se no è storta ok qui possiamo alleggerire un pochino questa scritta che è molto pesante magari con un pezzettino di carta più chiara che potrebbe essere questa magari questa no potremmo anche solo mettere una cosa così che un pochino la schiarisce poi metterci un ingombro potrebbe essere una cosa così è una tagghina no mettiamo una di queste oh what fun che però stacca veramente troppo poco quindi direi di no qui dietro che cos'ho fatemi vedere proprio alla ricerca degli ultimi ma guardi beh c'è anche questa che è un po' confusionaria così un po' troppo però così in realtà è molto carina si ha giudicato ritaglio la tazza anche si adesso la facciamo le palline di Natale le palline di Natale non ce ne neanche una intera l'avevo usato diversamente in questa striscia qui abbiamo delle tagghine che possiamo poi recuperare ravanando ravanando ok adesso tagliamola un po' così ok queste sono le forbici tagliafustelle quindi sono un po' un po' ruvidine con la carretta ma noi ce la facciamo lo stesso e questa in realtà potremmo metterla guardate anche qui qui si perde un pochino secondo me è meglio la tag esaurito il cataline lo facciamo poi riarrivare se vuoi fare il trovalo per me lo prenoti non dovrebbero volerci tempi troppo lunghi così questa qui e troviamo lo posto adesso allora qui che abbiamo tutto questo spazio che non abbiamo ancora deciso come impegnare potremmo fare questo guardate questo era un pezzo no da me non piove però mi hanno detto che da voi piove questo era un pezzo della tessera 4x6 che ho ritagliato e direi che va perfettamente bene ok allora direi che basta basi adesso appiccichiamo non mi è avanzato quasi niente in realtà questo qui è un pezzo che deve essersi staccato dall'albumino di Natale adesso lo recuperiamo aspettate tolgo solo questi avanzi qua che così faccio spazio sul tavolo ok questa striscia qui potrebbe servirci in realtà guardate se la metto qui lo stile di Vicky Boutin è molto colorato sono venute tantissime sì adesso le contiamo è molto colorato quindi non devo aver paura di sovrapporre finché sono colori della stessa collezione va sempre bene questo lo mettiamo qui così infatti dubito che avrò abbastanza appiccichini per tutte allora sono una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici wow allora adesso tendenzialmente la taglierina non dovrebbe più servirmi prendiamo questi che li ho aperti cioè li apro nuovi e sono belli poi quello che mi ha avanzato a verde in cibo non mi ha avanzato praticamente niente sono una donna triste però ho tante scrittine in oro che posso tenere lì ho qualcosina dei die cut qualcosa dei journal fatemi prendere un ciotolino queste tessere grandi per i journal non potrò usarle però e ho un sacco di stellame e di coricciame grande che in realtà adesso mi può servire Simona sono arrivati in un secondo momento sono bellissimi sicuramente secondo me li hai presi però controlla perché mi dubbio allora e adesso niente ce ne mettiamo un paio alla volta qui possibilmente del verso giusto per esempio qui con tanto spazio bianco scegliamo due stelline che si coordinino bene e in mezzo ci mettiamo ma forse anche solo un fiocco di neve o un rametto che viene fuori dalla stellina guardate così colla questi sono in realtà adesivi no non mi ricordo mai così se poi sono a corto di di materiale mi riservo comunque di aprire degli appiccichini ve lo dico anche qua abbiamo abbellimenti grossi allora guardate such a beautiful sight una vista così bella questo non si incollerà mai perché spesso così ok teniamo giù un attimo non li hai presi ce ne sono stai tranquilla e mettiamo un merry che sono proprio questi paffi adesso devo fare attenzione perché non ne ho 1200 mettiamo una stellina così e questa è fatta e la mettiamo qui ragioniamo su voi due allora qui possiamo mettere a winter wonderland scusate c'è qualcosa che fa ombra ed è questo ok poi vediamo io qui ho una serie di appiccichini grandi che sono tanto grandi falalala lo attacchiamo lì ops e qui ci mettiamo un moments dei paffi che è bellissimo qui ci mettiamo un december qua che si camuffa un pochino e se la trovo oppure potrei mettere questa aspettate ti fai togliere sì mettiamo questa però un po' si perde qui no aspettiamo un altro guardate qua secondo me va già meglio vediamo un po' tutti questi abbellimenti del journal guardate si è costruita da sola questa così così avrei potuto spessorare però mettiamo un happiness qui che si sposa perfettamente con quello lì come colore e se trovassi un fiocchettino piccino queste queste qui sono quelle di crepe per le scritte ricordate che avevo preso le scritte in oro una dedica scritta a mano Paola ti voglio molto bene ma tu lo dici solo perché non hai mai visto la mia grafia perché è impensabile veramente scrivo così male le stegiste più gentili mi dicevano a un certo punto quando scrivevo magari delle note sulle schede sulle schede o lasciavo un appunto mi dicevano magari se riesci mi mandi una mail ecco si facciamo così questo un po' si perde anche se di sopra ci sta perfettamente guarda qui fa tutto la carta se riesco trovo un unforgettable qua una X posso firmarle proprio proprio a dire tanto perché sono veramente ci scrivo in una maniera indegna voi non mi credete ma ho questi mega chipboard queste le impilo così così intanto si incollano bene poi così e così allora vediamo un po' di questi journal se ho qualcosa in verticale così li vedete anche voi beh guardate questa tag è perfetta chi amava proprio la infiliamo qui un filino più in alto ci mettiamo sopra una scritta che potrebbe essere questo merriest oppure wonderland è troppo grande questo merri mettiamoci questo fiocco di neve che è perfetto con il mood della carta così guardate che eleganza boh è finita vediamo se ho un astellino un cuoricino piccino dei chipboard qua a posto e ovviamente ah no pensavo di averla montata al contrario questa questa è praticamente già finita che cosa posso aggiungere ancora ho un ramettino di vischio così e eventualmente guardate li mettiamo due stelline ma questo è già finito di suo così è talmente bello voilà poi ok qui possiamo giocarci uno di questi abbellimenti grandi oh guardate che bello questo a beautiful sight oh questo oh la tesora del bingo questa è una tesserina del memory decks questa è una tagghina ah qui abbiamo questo pacchetto regalo enorme che dobbiamo assolutamente mettere da qualche parte oh questa no fatemi cercare di items questo è più per il journal questa warm winter wishes no con quella lì non ci sta benissimo questa è perfetta ok non ho ritagliato le ho usate tutte le carte delle calzine tutte tutte making a list to leave e qui abbiamo un qualche bannerino ce l'ho ancora holiday treats e mettiamo un fiocchetto così e anche lei è a posto vedete che si costruiscono con niente queste in queste card perché gli abbellimenti sono già così belli di loro che una volta che ne aggiungete un paio avete belle che è finito questo ce lo teniamo per qualcos'altro potremmo avere qua no non mi piace tanto weather's weather qua così magari incollato giusto così qui ci mettiamo il December e magari ci mettiamo un moment qua le paillettes ci starebbero benissimo e questa è fatta questa cosa vogliamo aggiungerle è bellissima così vediamo se abbiamo stelline e cuoricini piccoli tra l'altro questa qui è meravigliosamente bella anche questa aspettate che li tiro fuori quelli spendibili questo questo qui la ghirlanda il rametto la campana ok la busta e poi vorrei qualcuno di questi di quelli più piccini anche questo è spendibile allora guardate per riprendere un po' i toni della collezione potremmo mettere questi due qua anche una sola e lì ci mettiamo magari un banner qua family receipt e qui una scrittina christmas perfetto non ha bisogno di altro questa e via questa sembra fatta apposta per accogliere questo pacchetto vediamo vediamo se qui ho guardate questo fiocco che è perfetto dalla palestra che brava io non vi dico com'è la mia situazione di forma fisica non c'è e vabbè memories così questo lo teniamo di qua e questa qui potrebbe essere fatta vogliamo mettere un festone no a posto qui abbiamo più spazio vediamo un po' di recuperare uno di questi qui grandi scegliamo che cosa ci sta meglio questo è molto bello ma con il con il pledge sotto un po' si perde questo sarebbe bello potrebbe essere una cosina così se ci fosse un altro ago di pino sarebbe troppo bello c'è questo allora fatemi vedere vabbè c'è anche questo beautiful sight che potremmo decorare così magari con una calzetta che scende da qua e poi gli mettiamo una scrittina proviamo iniziamo a mettere questo la bustina questa qua mi piace veramente tanto così e se io qui mettessi love e qualcosa di dorato proviamoci lo metto a cavallo dei vari dei vari dei vari elementi devo farla più spesso questa cosa di appiccicare così senza cioè la base pronta e ne volevo un altro ne volevo due per equilibrarlo un po' certo che poi merry love togliamo questo e vediamo se posso mettere un'altra scrittina per christmas l'ho già usato vabbè mettiamo un fiocco di neve va bene lo stesso mettiamo un fiocchetto di neve qui guardate mettiamo merry e qui mettiamo il bannerino holiday 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 ok un cibordone ah si sono stordita così tanto si sono stordita tanto bene adesso li usiamo guarda giusto appunto Luigi ne ho un'altra qui di base su cui questa sarebbe perfetta no va guarda non mi piace tanto con questo qui così no non mi piace tanto così vediamo qui ci starebbe bene questa no non mi piace no no non mi piace fatemi vedere qui dentro beh ci sarebbe sempre questo ma no è troppo grande no 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 aspettate che cerco ah c'è questo qui che è perfetto questo e in realtà un'altra scrittina l'abbiamo fatto sono un antistress sono un antistress anche per me probabilmente per quello che lo sono anche per voi no serve sempre anche quando non se ne si ha tanta voglia è un ottimo metodo ah guardate questa qui questa dobbiamo trovare il posto dove metterla assolutamente possiamo aggiungere questa qui mettiamo un festive qua sotto e via fatta poi qui così copro tutta la tag qui ci mettiamo lui non fanno calare di peso su quello ancora non arrivo potreste potreste venire qui a fare gli ordini al posto mio calereste di peso in un niente ve lo giuro la rigiurisce il conto in banca certo c'è sempre un prezzo mi dicono una la praticità inesistente intendi così mi sembra eccessivo questa va bene così allora non ne abbiamo poi più tante dove la metto questa non ho più posto la metto qui non devo assolutamente trovare un posto allora ah qui c'è anche questa che è molto bella non so dove metterla l'ho vista adesso allora vediamo no qui ci vedrei bene aspettate qui si è staccato tutto allora guardate chi vuole cioè facciamo delle sessioni intensive di picking up degli ordini e vedete che il peso va giù io non so più quanti chilometri faccio al giorno ma sono tanti fa la 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 questa starebbe bene qua così sì questa la tagliamo così a 4 11 e un quarto la mettiamo al centro così diventa l'elemento principale eh miscelare paillettes non è così faticoso fare gli ordini un po' di più adesso stiamo facendo l'inventario cioè l'inventario è un inventario che si fa a fine anno ma un inventario per allineare le giacenze infatti vedete che ogni tanto sbucano fuori un tot di prodotti che ci siamo accorti non essere sul sito e quindi chissà come mai non li vendiamo due domande e quindi c'è parecchio movimento allora questo lo attacchiamo qua così potrei mettere qualcosina qui che potrebbe anche solo essere uno di questi remember this remember this e quindi mi piu' faticoso direi adesso ho dovuto riprendere i secchi di uno dei due set perché le stavamo finendo e quindi ovviamente era necessario farne un altro po' ci ho messo mezz'ora a trovarli tutti ne ho troppi troppi secchi di paillettes se uno arriva adesso e sento il live adesso mi prende per psicopatica anche gli uccellini starebbero bene sì falla una card clean and simple poi ti piace fare l'inventario guarda quando arriveremo alle carte credo che mi abbandoneranno tutti ho questa sensazione fortissima allora una stellina altrimenti potrebbe essere una scritta busy sidewalks no non ci sta potremmo no non mi piace no va già meglio ma ce n'è un altro coso così che forse mi piace di più aspettate che l'ho intravisto prima no me lo sono sognata ok ah no eccola vediamo ah c'è uguale i denti halloween allora le mie cose di halloween arriveranno per fine settembre l'aggiornamento della spedizione della fustella è per il 26 una cosa del genere adesso mi devono ancora dire quella del gattostrello è bella così sì volevo metterci una scrittina o qualcosa che rappresentasse un po' il messaggio no che dai vediamo qui che cosa I love shopping for presents è bellissimo grateful for friends cherish cherish c'è un no sweet darling dai è perfetto sweet darling qua ecco no niente campane bocciata così possiamo mettere un bannerino no non mi piace wrapping presents questo qui è un po' storto ok no l'abbiamo deformato adesso lo sistemiamo tranquilla niente panico così e vediamo ho finito le stelle c'è ancora questa stellina piccina picciò che potrebbe andare bene la lumachina ho chiesto non mi hanno ancora detto mi hanno parlato di probabilmente una decina di giorni di ritardo ciò vuol dire che probabilmente me la spediscono intorno al 20-25 ma appena ho la conferma lo comunico a tutti gli abbonati così che vi dico come procediamo insomma per chi ha anche l'abbonamento e metto il tails e via questa è già perfetta così in realtà cosa possiamo metterci together e un bannerino più scuro sotto da qua questo Christmas Music così così e qui possiamo metterci cheer ok gli altri die cut che ho sono un po' grandini per questa dimensione quindi questo lo lascerei così vediamo ma posso metterci due rametti di vischio dorato anche le scritte che mi sono rimaste in oro sono un pochino grandicelle ma in realtà per farvi vedere che mi era avanzato parecchio materiale effettivamente da questo albumino però le carte non erano così tante e come avete visto per fare una serie di card velocemente ci va veramente poco bisogna tagliarle sfruttando al massimo la potenzialità della carta che avete a disposizione quindi cercando di sprecare nemmeno possibile senza filtri così velata mi piace perché sei velata come me mettiamo due ramettini ancora questo qui e poi direi che abbiamo finito ok idee che sono sempre è tutto della collezione Warm Wishes di Vicky Buten nel messaggio di Telegram vi ho linkato il prodotto contenitore del ring album che avevo fatto e da qui erano avanzati questi abbellimenti gli unici che ho preso in più sono i Puffy stickers adesso poi me lo cerco di scrivere ah c'era anche questa qui che era bellissima vabbè adesso cerco poi di scrivervelo di nuovo nelle note quando vi faccio vedere il risultato le foto del risultato del lavoro di stasera per chi volesse aggiungerli però in realtà avevamo usato i die cut queste scritte dorate sono quelle della Busy Sidewalk di Crate Paper adesso vi faccio vedere quello che è avanzato in termini di voi l'avete vista questa busta quando l'abbiamo adesso metto tutto qui poi non credo che alcune di queste cose le regalerò sono ritagli che non userò più e sono avanzati questi e tutta la collezione di Warm Wishes tutto quello che c'era arrivato avevo quasi finito i Cibborn ah c'erano tanti di questi cuoriccioni non ci ho neanche fatto caso questi sono splendidi guardate come questi fanno una card da sola da soli così meravigliosi e vedete è quasi vuoto Germana vorrei che venisse messo agli atti che è avanzato pochissimo ci terrei proprio che venisse messo agli atti domani facciamo stessa cosa però domani facciamo una paginetta del Midori quindi in realtà vi viene veramente poco in termini di di volume di quello che faremo facciamo uno o due di paginetta del Midori ho anche stampato la foto perché fino all'ultimo ero indecisa se fare uno o l'altro adesso vediamo magari facciamo il Midori e facciamo anche un layout boh vediamo aspettate che ho recuperato i due piccichini ok allora vediamo queste card grandina qua per ora per ora no ve lo dirò stanotte allora mettiamole un pochino in ordine poi dovrò trovare un modo per fotografarle più o meno tutte insieme come il mio solito in maniera confusa e felice sono secondo me molto belle se pensate che nascono dall'uso degli avanzi di carte e di appiccichini io credo che il risultato sia fantastico io appiccico come vedete senza pensarci e sono seria per me è necessario che sia così nel senso che ho bisogno che sia veramente uno svuota testa poi è ovvio che ci sono progetti un po' più complessi in cui è necessario metterci la testa in cui è necessario essere più precisi perché se no non vi combaciano per esempio le pieghe e quindi per carità però quando si tratta di appiccicare per me è una cosa di un rilassante un po' come quando ritagliono arrivi da Taylor ed sì abbiamo un carrello aperto da Taylor stiamo aspettando che tornino disponibili la fascetta con le zucche però se hai bisogno di qualcosa usa il trovalo per me tranquillamente sono 16 sono bellissime queste finiranno nei pacchi le darò in mano a madre sono stata brava perché non ci ho messo le paillettes però le paillettes ci sarebbero state meravigliosamente bene con gli avanzi ho preso solo un pacchettino di puffy stickers le stampe digitali ce le hai quando ti è arrivato allora se hai comprato il punch piccolo prima che io dessi le grafiche che ci allegassi le grafiche le ho mandato via mail a tutti lo trovate nella mail che arriva da shop chiocciolenegozionama di club.com diversamente lo trovate nell'area download e quando vi è arrivata la mail di pagamento completato nel vostro ordine c'è anche il link per scaricare il pdf con la grafica il jpeg con la grafica sembrano tante le ho fatte anche abbastanza grandi pensate se decidessimo di fare delle card piccine non tutti gli abbellimenti ce lo consentono ovviamente sto pensando per esempio una doodle il bug doodle ha degli abbellimenti per cui dovremmo fare delle tag e delle card che sembrano dei layout degli 8x8 però insomma se ci pensate per svuotare le borsine dell'anticamera dei ritagli prima di mandare tutto il non utilizzabile nel paradiso dei ritagli questo è un ottimo modo se volete farle puoi mandarle a noi affinché vengano distribuite nei vari pacchi volentieri ma io sono brava ad assemblare più o meno nel senso che sicuramente mi riconosco di avere un po' di gusto cromatico e un po' di gusto nelle composizioni però è talmente facile ragazze quando voi utilizzate qualcosa che arriva dalla stessa collezione per cui difficilmente si può sbagliare i colori sono tutti coordinati perché lo studio della cromia è stato fatto a priori gli abbellimenti sono fatti per stare bene insieme ho detto Doodlebug Doodlebug tra l'altro mi hanno spedito adesso sto negoziando con la Dogana perché ritiene che ci siano all'interno di quella spedizione degli oggetti d'arte vorrei spiegargli che si tratta di un'arte un po' particolare un po' spatasciosa però insomma spero che li rilasci al più presto sta arrivando la collezione Fun at the Park che è la collezione che fa un po' l'occhiolino a Disneyland a Topolino quella di Halloween che ho già ordinato arriverà non mi ricordo forse non me l'hanno detto quando arriveranno adesso va bene che non mi ricordo più niente però forse non ce l'hanno ancora detto no no Amanda Card Natalizio noi siamo per il Natale sempre in realtà nei miei sogni più come dire più oh come si dice in italiano Daring più audaci sogno di poter tutti i mesi fare almeno un progetto di Natale almeno un progetto di Halloween tutto ciò quando avrò una squadra di Elfi che mi aiuterà e farà gli ordini al posto mio sarà sicuramente possibile per ora ho solo lui che per quanto sia assolutamente adorabile più che chiedermi da mangiare non fa cosa devo dirvi arriverà il giorno in cui addirittura potrò pensare adesso mi cade tutta la big shot perché ci ho messo sul dolce peso di Sirius addirittura potrò pensare ogni giorno della settimana di fare una cosa diversa un giorno facciamo un layout un giorno facciamo il packaging un giorno facciamo chi è che si compra il negozio io rimango a fare la parte di comunicazione a Babbo Natale guarda ma io ho diversi anni che gli richiedo Babbo Natale ma mi fa lo gnorri Babbo parliamoci chiaro io quest'anno ho bisogno di una squadra lavoro ben definita e molto organizzata che non che mi rubi le cose dal tavolo allora una call for proposal una call for proposal per per venire a fare gli ordini mamma mia allora io un tempo ero una chi mi segue da tempo lo sa io sono una psicologa nasco come psicologa clinica e ho poi lavorato per tantissimi anni nelle risorse umane quindi scrivere annunci di lavoro e selezionare personale è stato il mio lavoro per tantissimi anni mi ha un pochino fatto andare in burnout però insomma adesso mi sono assolutamente rifrancata e sono nuovamente lucida e critica rispetto a quella che può essere la bontà di un profilo ma non avrei voglia di scrivere degli annunci di lavoro piena di curricula lo so e che ho ricevuto curricula all'IDA in quantità medie di 300 400 al giorno per 15 anni io quando vedo un curriculum mi vengono i capelli dritti in testa e poi ero tremenda a fare i colloqui sono assolutamente tremenda e sono tremenda come dattore di lavoro sono estremamente pretenziosa quindi non lo so forse il motivo per cui Babbo Natale non trova nessun elfo da mandarmi nessuno vuole venire e vabbè pazienza continuerò da sola cosa devo fare allora dunque cosa vi racconto se non avete ancora fatto il preordine di Moda Scrap fatelo perché per noi negozi sarà possibile accedere al preordine solo fino al 6 poi potremo riordinare ancora assolutissimamente sì ma dopo che inizieranno a spedire che la merce sarà arrivata con le fatture gli stessi numeri Alida quanto hai voglia ancora di vedere fatture tu nella tua vita dicevo fatelo se volete essere tra i primi a ricevere i prodotti diversamente dopo sarà ancora possibile ordinare salvo necessità da parte loro di reintegrare prodotti eventualmente finiti Tommaso anche lui arriverà per metà mese quindi anche se non avete ancora fatto una scelta per quanto riguarda i bundle di Tommaso mi sembra di aver visto che ancora tutto è disponibile io dovrei aver ordinato sufficienza per coprire tutte le esigenze ma se volete fare un ordine vi consiglio di farlo anche perché i corsi dei bundle inizieranno poi non molto dopo credo l'uscita adesso non ci sono ancora le date però insomma se avete piacere di partecipare a uno di questi eventi prenotatevi adesso oggi vi dicevo sono tornati alcuni degli abbellimenti è tornato il binder di Vicky Buten che ci siamo l'ho visto passare l'altra volta ho aperto quello di non mi ricordo più di chi quello di chi ho aperto di Vanya credo per farvelo vedere 27 anni di amministrazioni Elisa esatto esatto so che mi potete capire io sono 15 ma vi dico 15 anni senza nessuna denuncia senza essere finita in galera senza che nessuno mi abbia bucato le gomme forse perché non sapevano che macchina avevo insomma alcune minacce sì però me la sono cavata egregiamente ammorbidirsi non so neanche come si scrive campione omaggio salviamo qualche matrimonio c'è stato un anno Elisa in cui ho mandato degli alibi tutto questo è un regalo dell'aclete tipo una cosa del genere la coppia creativa sicuramente farà una release la fa sempre ma non c'è ancora comunicato nulla tu ti tacci Daniele ci penso ci penso ogni tanto anche al lavoro che fai tu e cos'altro vi racconto oggi abbiamo troverete tra le novità in realtà a parte le cose effettivamente nuove uno separato perché vengano spediti insieme allora Elisa dipende se con tutti e due arrivi alle spese gratis se non arrivi ai 100 euro in uno metti le spese di spedizione e nelle note di entrambi ci scrivi che vuoi che vengano spediti i tuoi ordini solo al completamento anche dell'arrivo dei preordini così lo sappiamo scrivilo sempre in nota che la nota è una cosa che ci viene stampata insieme al riepilogo d'ordine non ci perdiamo praticamente mai di leggerla ok e dicevo trovate tutta una serie di prodotti nuovi abbiamo aggiornato Concord Altenew Waffle Flower con tutta una serie di prodotti che mancavano dal sito e che quindi adesso trovate nelle quantità corrette e aggiornate e li vedete ovviamente tra le novità perché quando li carichiamo come importazione hanno la data del giorno in cui li carichiamo e si sa ho vinto ad una lotteria la Clemi ha fatto un regalo una cosa del genere poi siamo in attesa della nuova release di Mama Elephant che arriverà per metà settembre cos'altro sta arrivando sta arrivando un piccolo reintegro di Florilege ho perso il conto delle cose che stanno arrivando e poi comunque non ho più questa memoria particolarmente scattante quindi dimentico cose allora per quanto riguarda le mie cose su cui sono un pochino più performante in termini di memoria vi posso dire che a fine settimana dovrebbe arrivare il timbro coordinato al punch adesso poi vedremo come gestire l'abbinamento dei due prodotti e abbiamo ancora qualcuno dei puncettini della vergogna se qualcuno volesse ancora abbinarlo avrete le grafiche gratuite e le useremo domani nella paginetta del Midora le carte singole di Moda Scrap non le ho messe sul sito le pastel le metto in vendita quando arrivano perché credetemi smistare i fogli singoli è una cosa diventa veramente difficile cercate di capirmi quando arriverà Moda Scrap saremo a metà mese e arriveranno i kit 500 da smistare Tommaso un numero imprecisato di bundle le fustelle e timbri e ciafanagli come dice lui e Moda Scrap tut ensemble io da un lato quasi potrei essere contenta che la lumachina non arriva per tempo perché sarà un disastro mi ci vorranno dieci giorni il pad che hanno ristampato invece no quello Anna quello oh mamma mia è brutto essere a fasici Italian Scrap Style arriva a loro domani e quindi me lo spediscono domani perché l'ho già riordinato sia quello grande che quello piccolo Simpostories con il Natale dovrebbe arrivare a metà settembre sì in realtà mi avevano detto che avrebbero provato a spedire tutto per fine agosto ma oggi il 31 agosto non è partito niente provo a indovinare credo che non ce l'abbiano fatta ma è quasi sempre così in realtà quest'anno loro hanno avuto veramente tantissima sfortuna per quanto riguarda i ritardi di produzione con la scorsa rilisa hanno trattenuto i container ricordate in Cina per 4 settimane è una cosa che non finisce più mi farà arrivare anche la lumachina no da un lato sarebbe meglio allora quando arrivano i preordini di magari di moda scrappo di Tommaso e sono frammentati nel senso che non arriva tutto insieme vuol dire che noi quell'ordine lì lo dobbiamo riaprire n volte quando sono arrivate le perle e i tassel io vi giuro belli ma è stato un incubo abbiamo fatto un sacco di errori apri riapri ti manca non ti manca Tamara ho ordinato i gattini direttamente dalla Ranger che ancora non mi ha detto se è in grado di soddisfare l'ordine o no ho ordinato sia Natale che Halloween vediamo il Christmas LA ma che cos'è questo LA ah la limited edition ma ce la posso fare oggi ho risposto un travolo per me dicendo quale intendi esattamente la limited edition adesso mi si è accesa la lampadina allora io confesso che non ho guardato tutto il live ieri ma se l'hanno fatta ristampare la riordino assolutamente li uso poco allora le carte oro ce le ho già allora le carte argento purtroppo ho dovuto per un errore nostro sono per come sono state collocate si sono rovinate tutte perché sono estremamente delicate quindi in realtà non le avevo più riordinate perché sono un pochino di difficile gestione sono di loro non particolarmente lisce come non sono come il bazil foilizzato quindi in realtà ho deciso di tenere prevalentemente quelli se le volete poi le facciamo rientrare li uso poco tu dici mi è rimasto l'odio è complicato se dobbiamo smistare immaginate di dover riaprire 120 ordini se avete tutto a disposizione lo aprite una volta questo 120 ordini e avete finito se tutti questi ordini vanno riaperti n volte diventa confusionario per noi diventa confusionario per il cliente che si vede arrivare a una barcata di mail ed è di difficile interpretazione a volte perché si legge di fretta perché non si legge tutto e quindi in realtà io sono almeno per le mie cose cerco di avere tutto in casa posso perché sono piccolina perché decido solo per me e quindi diventa diventa la su Tirol dovrei averla riordinata credo di averla riordinata adesso controllo perché non me lo ricordo esattamente però sì dovrei aver riordinato tutto perché sono stanno facendo uscire dai cut quindi sono tra l'altro molto molto belli quelli della su Tirol tuona qui per ora non ancora io adesso faccio le foto a queste cosine qui vado a scaldarmi un vasetto in vasocottura per la cena e poi mi butto sul divano a guardare The Rain in lingua originale con un British accent che faccio una fatica senza senso a seguire però sono troppo curiosa di capire come va avanti e quindi mi dedico a quello grazie per chi è stato con noi queste card saranno nei pacchi di questi giorni spero che vi sia piaciuto il live uno spunto come sempre semplicemente per utilizzare quello che abbiamo la collezione è bellissima le ultime cornici di moda scrap le cornici ci sono tu dici i rettangoli ci sono i bubble circles quello è l'iPad dell'inventario che non so come disattivare per l'audio ma vabbè ci lavorerò ci sono i bubble circle che sono questi qua quelli che ho usato per l'albumino ci sono i framed rectangles e i quadrati mi sembra che si chiamino scallop squares una cosa non ne sono sicurissima ma arriveranno domani o dopo domani allora vi saluto i rettangoli framed rectangles si chiamano se non sbaglio i quadroton il T9 mi piace tantissimo fanciulle buona serata grazie a chi è stato con noi trovate tutte le novità sul sito adesso faccio le foto e poi vi faccio il solito post di recap e noi ci vediamo domani ciao ciao grazie a tutti